Raffaele Biancolino, al di là del risultato finale, che emozione hai provato ad affrontare da avversario Lavellino con il tuo caro tenuto? Sì, diciamo che l'emozione è sempre tanta. Ogni volta che si entra in questo stadio, per me è sempre un'emozione grande. Poi contro Lavellino, contro la propria squadra, è un'emozione unica. Lavellino di Capuano lo conosciamo un po' tutti, è una buona squadra, messa bene in campo, sanno quello che vuole il mister e il mister sa tirare fuori quello che chiede ai propri giocatori. L'abbiamo visto oggi, l'abbiamo visto durante il campionato. Parliamo del tuo caro tenuto, che è ripartito alla grande nel 2020 con la vittoria sulla capolista Saviano. Grandi ambizioni, siete a ridosso della zona playoff, però naturalmente non vi accontentate. No, non ci accontentiamo, però come ho sempre detto per noi, la prima cosa è la salvezza. La prima cosa è la salvezza, poi quello che viene, ripeto, ce la giochiamo con tutti. Giocando con la cattiveria che abbiamo messo sabato, quella è la squadra che voglio vedere in mezzo al campo, perché ti ripeto, la salvezza è la prima cosa. Però, come si dice, se la squadra è quella di sabato, continua così, poi c'è da ridere con tutti. Guardi, l'ho detto l'altro giorno, Lavellino di Capuano può arrivare in alto, può arrivare in alto. Quello che posso dire è che l'ambiente deve stare vicino a questa squadra, deve stare vicino alla squadra e ha dimostrato che può fare veramente l'uomo in più, perché sappiamo tutti l'ambiente e la piazza di Avellino. Questa squadra, con questo allenatore, una volta che arriva nei playoff, se la puoi giocare con tutti, secondo me... Ci possiamo divertire, una volta che arriva nei playoff è da divertirsi. Eh, lo so, però il direttore Martone e il direttore Musa sanno quello che possono prendere e trovare, perché secondo me sono bravi a fare il loro lavoro e sanno dove mettere le mani. Con Capuano, col mister Capuano lo conosco da una vita, diciamo che io ho avuto la fortuna di giocare con lui nella propria squadra, a Taranto nel 99-2000. Lo conosciamo tutti che mister, abbiamo raccontato un po' di qualche episodio di un lontano 99-2000, però è finita subito là, col sorriso, perché quello non deve mancare mai. Per questa squadra di Paolo Antonio si vede che è un giocatore di categoria superiore, ma ti ripeto, un po' tutti, un po' tutta la squadra è formata bene, vedo che corre, lotta, diciamo che questa è la squadra giusta per Avellino, ma tanto come persona, perché felice lo conosco bene, sia come calciatore, ma più che altro come uomo. Secondo me è uno che può dare veramente tanto a questa piazza e a questa squadra. Tornando al caro tenuto, tu in panchina, Iacovacci presidente, due pezzi del recente passato dell'Avellino che vogliono ripartire dal mondo dilettantistico, però con grandi ambizioni. Sì, con grandi ambizioni. La categoria diciamo che non ci fa paura, siamo abituati a lottare, ci piace partire un po' indietro. Iacovacci con l'ingresso del presidente Iacovacci diciamo che abbiamo chiuso il cerchio con Filomeno De Lucia e Angelo Cagliardi e l'ingresso di Iacovacci secondo me abbiamo fatto un ottimo, ma un ottimo veramente acquisti con Iacovacci. Grazie a tutti.